Quali sono i tuoi hobby? Quali sono i tuoi hobby? Qual è il tuo lavoro dei sogni? Quale è il tuo lavoro dei sogni? Hai gli animali domestici? Hai alcuni figli? Qual è il tuo libro preferito? Qual è il tuo libro preferito? Che cosa fai nel tempo libero? Che cosa fai nel tempo libero? Dove sei andato in vacanza? Dove sei andato in vacanza? Where did you go on holiday? Come hai passato il fine settimana? Come hai passato il fine settimana? Che programmi hai per il fine settimana? What are your plans for the weekend? Dove vorresti vivere? Dove vorresti vivere? Where would you like to live? Ti piace cucinare? Se ti piace questo contenuto, non esitare a iscriverti, mettere mi piace e condividere per ricevere ulteriori contenuti simili. Mi piace fare escursioni. Sono appassionato di fotografia. Sono appassionato di fotografia. I am passionate about photography. Lavoro in un'azienda di marketing. I work at a marketing company. Studio ingegneria all'università. Ho vissuto in diversi paesi. I have lived in different countries. Parlo tre lingue. Sono qui per migliorare il mio inglese. I am here to improve my English. Ho viaggiato molto. Lavoro da remoto. Lavoro da remoto. I work remotely. Sono un libero professionista. Sono un libero professionista. I am a freelancer. Se ti piace questo contenuto, non esitare a iscriverti, mettere mi piace e condividere per ricevere ulteriori contenuti simili. Potrei avere il conto, per favore? Mi sono divertito molto. Mi sono divertito molto. I had a great time. Cosa ne pensi di me? Cosa ne pensi di me? What do you think about me? Ho bisogno di un appuntamento. Ho bisogno di un appuntamento. I need an appointment. Mi può dare delle indicazioni? Can you give me directions? Non sono sicuro. Ho perso il mio telefono. È stato un piacere parlarti. It was a pleasure talking to you. Grazie per il tuo aiuto. Thank you for your help. Posso fare una domanda? Can I ask a question? Qualcettaanasia originale? Vibra fennaro. Non sono sicuro.